I mondiali di calcio si avvicinano e quindi continuiamo a vedere le maglie delle squadre di calcio che saranno in Qatar nel 2022. Questa è la prima dell'Inghilterra in versione player, quella indossata dai calciatori. La maglia da casa Nike Inghilterra 22 combina il tradizionale colore principale bianco dell'Inghilterra con il blu cielo e il blu navi. I colori ufficiali sono white, blue fury e blue void. È una combinazione di colori che evoca ricordi della fine degli anni 90. In termini di design, la maglia home della Coppa del Mondo dell'Inghilterra presenta una sfumatura dal blu scluro all'azzurro sulle maniche. I colori si ripetono sui polsini. Dal punto di vista del modello, la maglia presenta lo stesso modello delle maglie del club 22-23 del marchio Nike. Pantaloncini blu navi e calzettoni bianchi completano il kit casalingo dell'Inghilterra. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100% ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Questa maglia secondo me è molto bella. Nella mia classifica non spicca, prende solo tre stelle, però devo dire che è fatta veramente molto bene e questa trama stupenda e la sfumatura gli danno quel tocco in più che mi ha portato a comprarla. Il costo lo vedete qui sopra? Su questo non aggiungo altro, bassissimo. E peraltro vi ricordo che in descrizione, oltre a trovare le informazioni per comprare la maglia, trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari e quindi il costo diminuisce ulteriormente. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità e le misure, quindi continuate a guardare il video. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi anche sapere nei commenti quali altre maglie vorreste vedere in futuro. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa.